buonasera da me dal mio tiki dalla mia scala dalla mia tormalina dalla strega dalla mia maglietta e da mrs smoke allora oggi veramente giornata assurda ero entrata tempo fa in alcuni gruppi di scrittori questo può per farmi un'idea quando ho cominciato a scrivere i libri anche se poi io in generale poco mi baso sulle esperienze della gente ma ero entrata in tre o quattro gruppi di questi scrittori l'assurdità totale l'umiltà non sanno dove stia di casa assolutamente se sbaglia mettere una virgola salta su platone insieme a socrate con l'aiuto di dante alighieri e con il consigliere davanti che suggerisce ti masticano poi ci sono gli arraffaspicoli perché gli arraffaspicoli sono dovunque in ogni categoria che ti partono con l'editing va fatto da un professionista e la copertina va fatta da un professionista e la lettura va fatta da un ghost reader e poi ci vuole l'aiuto di insomma per buttare fuori un libro secondo loro dovresti spendere 10 mila euro sarà che io le pezze al culo i miei cinque libri mi sono costati relativamente poco quasi niente li metto anche a poco quasi niente li mette li mettono le librerie io non faccio i prezzi le fanno loro però mi sono fatta tutto da sola e sono pienamente soddisfatta di me stessa poi ripeto non mi sento un tolking non mi sento una marion zimmer bradley e neanche una marie shelley di conseguenza faccio libri perché mi piace scriverli perché mi piace aiutare le persone anche in quel modo e per cercare di avere anche un lavoro serio e pulito visto che comunque sono anche disoccupata ma per il resto non miro a diventare il nuovo premio pulizzer no il premio pulizzer è quello dei giornalisti quello degli scrittori non mi ricordo manco come si chiama proprio perché a me ste cose non interessano e nell'ultima discussione che ha deciso poi definitivamente di farmi abbandonare tutti quei gruppi tranne uno che è un gruppo abbastanza carino e di persone civili sono scappata con una lippa quando una ha scritto tutti abbiamo in casa un libro della costituzione italiana no io non ce l'ho e peraltro scritto mi annoierebbe anche leggerlo che è la semplice pura verità non me ne frega niente l'ho studiata a scuola all'epoca di ragioneria ma obiettivamente di mettermi lì oh che bello cosa leggo stasera mi leggo la costituzione italiana non ce penso manco non ce l'ho in casa e sono ben fiera e manco lo voglio scritto sono saltate su con la cultura non è pane per tutti a quel punto lì ho risposto se gli acculturati sono educati e gentili e soprattutto umili come voi sono ben felice di non essere considerata acculturata perché voglio dire peggio gente non si poteva trovare botte di ignorante botte di ora perché uno c'ha in casa il libro della costituzione lo zanichelli vocabolario si sente dio in terra ma che brutta vita triste che hanno ste persone mamma mia obiettivamente io quando leggo voglio avere il piacere di leggere non andarmi a leggere i decreti sulla costituzione italiana ci penso manco se poi mi serve l'articolo per qualche motivo me lo cerco a prescindere che la costituzione si trova anche tranquillamente online non è che serve il cartaceo il cartaceo è bellissimo il libro cartaceo ora qua ho solo i miei ma lo sapete avevo fatto nell'altro video di sopra ho una libreria di 700 rotti libri ma in generale il libro cartaceo con l'odore della carta è bello quando è bello il libro non me ne frega niente di avere un cartaceo della costituzione italiana o un cartaceo del dizionario di italiano quelli che cerco tranquillamente su internet non ha un senso logico il loro discorso chiusa parentesi me dovevo sfogà con qualcuno e me so sfogata con voi ogni tanto ve sfogate sempre tutti con me sfruttamento di utenti che mi seguono modalità on invece torniamo al paranormale che è più normale dei normali i miracoli perché parlo di questo argomento perché ieri nei vari social dove ho condiviso e postato il video che ho fatto scusate sull'egregora e sui tulpa ho scatenato l'inferno quando sostengo di essere atea già di per sé scateno l'inferno perché perché la maggior parte della gente che segue le questioni paranormali solitamente legge le solite scopiazzature che scrive uno lo copia incollano tutti quanti su divinità su dio sugli angeli sulle preghiere da fare prima e dopo i pasti a stomaco pieno a stomaco vuoto e via dicendo e quindi quando dico che sono una studiosa occultista esoterista e che sono atea nonostante sia medium quasi quasi secondo loro è un affronto alla religione che peraltro dovrebbe essere il contrario perché le religioni monoteiste bandiscono la medianità bandiscono l'esoterismo quindi teoricamente è il credente fervente che non dovrebbe essere nei gruppi di paranormale non il contrario l'ateo ci sta benissimo dentro del gruppo di paranormale è il fervente credente che non ci sta bene se segue realmente la sua religione ma anche lì non voglio fare polemica però a volte queste cose qua sono proprio palesi e invece scrive uno e tutti addietro chicchi chicco co co cru 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 cua qua vabbè e tra le tante frasi postate domande e via dicendo, come al solito, qualcuno mi ha chiesto come domanda seria, e peraltro che ci sta anche, quella era un'altra questione, ma tu dici che i tulpa non hanno energie per interagire, ma sono semplicemente degli ologrammi, praticamente, quello che spiegavo ieri, vi cercate il video di ieri se non l'avete visto, sono praticamente degli ologrammi che grazie al pensiero altrui si formano con una forma, con un aspetto preciso, ma restano sulla pellicola di mezzo, tra la terza dimensione e la quarta, che comprende anche proprio, oltre alla dimensione dei defunti, anche la dimensione astrale, la dimensione psichica, la dimensione onerica, ma se sono degli ologrammi e non hanno la possibilità di, diciamo, interagire con la realtà, la realtà materiale intendo, ma soltanto la possibilità di fare apparizioni e sparizioni, perché sono praticamente delle fotine, inventate dalla nostra mente, allora i miracoli, e quindi devo continuare sul filone del discorso, i miracoli, semplicemente, molto papele papele, non sono miracoli, semplici, voi dovete mettere in conto una serie di fattori, primo fra tutti, il potere di autoguarigione che ha la nostra mente, che ha l'essere umano, l'essere umano è capace di autoguarirsi quasi al 75-78%, ovviamente dipende da che patologie, ma la forza del nostro pensiero, dei nostri stessi sentimenti, che siano sentimenti di fede, che siano altri tipi di sentimenti, porta a delle conseguenze che a volte guariscono, a volte ammalano, a volte proteggono. E qui mi rifaccio anche a un'altra domanda che mi avevano fatto su un altro post, ma la spiego dopo. Quindi un buon 78-80% dei miracolati in realtà sono persone che sono autoguarite per la loro forza di volontà e il loro aggrappamento alla fede, ma non è stata la fede a salvarli, e sono loro che fiduciosi in lei si sono autoguariti. Poi ci sono anche degli aiuti, a volte, per certi motivi, ci sono degli aiuti anche, dicevo, entatici. Ma non avvengono perché tutte le sere vostra zia sta a pregare. Avvengono per una serie di questioni che molto spesso sono state portate, o vengono portate, dal comportamento di altre... Mi sta squillando il telefono, porca miseria, mentre faccio il video. In attuale ho finito di fare la telefonata, perché giustamente mi arrivano solo nei 20 minuti che faccio il video serale. Vabbè, poso la cornetta e torno normale. Ok, a proposito di miracoli, se stasera finisco sto video, miracolo. Dicevo, quali sono i miracoli? Le guarigioni miracolose. Come ho detto prima, un buon 80% sono autoguarigioni. Per autoconvinzione, ma autoguarigioni. E quindi il tulpa e o eventuali divinità non c'entrano. Vabbè, è beneamata. Fava. Poi, ci sono guarigioni che sarebbero venute, avvenute, comunque. A prescindere. Siamo noi a vederle come miracolose. Ma, di miracoloso, non hanno niente. O al massimo il miracolo. Lo hanno fatto i medici che hanno salvato la persona. Anche perché è un classico, no? Se te salvi grazie a Dio, se te succede qualcosa è colpa di quel dottore. Mai che se te succede qualcosa è colpa di Dio. E se invece te salva è grazie al dottore. Che sarebbe più normale anche da pensare. Poi ce n'è qualcuna di salvezza o di aiuto, comunque, a livello personale. Che sì, può derivare da qualche entità elevata. Che non significa Dio. Nessun Dio. Significa entità elevata. Che con certi aiuti e indirizzamenti, a volte, possono fare in modo che una determinata persona guarisca prima o si salvi da determinate circostanze peggiori. Non la vita. Se non siete morti, è semplicemente perché non dovevate morire. Non era l'ora che avevate deciso prima di reincarnarvi. E non c'entra una cippa col miracolo. Altri miracoli. Le apparizioni le ho spiegate proprio ieri. Nella questione delle Gregore e dei Tulpa, appunto. In particolare avevo nominato le apparizioni mariane. Ma in generale anche le apparizioni di un eventuale Cristo, di un eventuale Buddha, di un eventuale Maometto e via dicendo. Che non so manco se si siano mai verificate su quest'ultimo. Ma in generale le apparizioni sono dei semplici ologrammi nella pellicola, come spiegavo ieri, di confine tra la terza dimensione e la quarta. Create dalle energie mentali di chi crede in quella figura. Altri miracoli? Perché io a parte le apparizioni e le cure varie di determinate malattie e eventuali salvataggi della morte, che non sono salvataggi della morte, ma sicuramente non dovevate semplicemente morire, e buonanotte al secchio, non mi vengono in mente altri tipi di miracoli. Se poi andiamo a verificare le storie raccontate nei libri sacri, come Vangeli, come Corano, come Bibbia e altri, come certi Veda e via dicendo, possiamo benissimo analizzare a livello storico che anche quelli minimi descritti da loro, ora non mi ricordo se era Abramo o Mosè, che prende, ora faccio l'esempio con una cannuccia, ma prende il suo bastone da passeggio, lo butta in terra davanti al re e questo diventa un serpente. Ecco, che è quel libro lì, che adesso non mi ricordo, ma a me pare che sia la Bibbia sempre, e c'è anche nel Corano lo stesso passo. Non è stato un miracolo che il bastone Abramo, Abramo o Mosè, che fosse, l'ha fatto diventare un serpente. E' stato un trucco da illusionista che usava tanto 4.000 anni fa e anche di più. Cioè, drogavano un serpente con determinate erbe e questo tipo di droga lo rendeva rigido quando era drogato. Quindi loro lo potevano piegare e fingere che fosse un bastone. Nel momento in cui lo sbattevano violentemente a terra, sto serpente si riprendeva dalla droga e cominciava a muoversi. Ma questo tanto per dirne una. Ora non mi ricordo di preciso altri miracoli raccontati, ma lo stesso Lazzaro che si alza che era già morto potrebbe venire, a prescindere che so favole, ma anche analizzandoli come miracoli, Lazzaro poteva essere in coma, poteva essere in morte apparente, poteva essere semplicemente narcolettico, a voglia, a spiegazioni scientifiche. E quindi anche lì il miracolo me lascia un tempo che trovo. Quindi alla fine sono tutte smontate le teorie dei miracoli. Per cui quando qualcuno mi chiede, ma allora i miracoli? Io rispondo, i miracoli non esistono. Quando è qualche entità che si intromette nella salute, nel percorso animico di un essere umano, di un essere terreno più che umano, è perché qualche altro essere sempre terreno aveva sbilanciato il bilanciamento cosmico con il suo libero arbitrio. Faccio un esempio molto stupido, molto terra-terra. Io, qualcuno umano, terreno, mi fa una fattura a morte o mi fa una maledizione, mi fa un qualcosa che io dovrei morire. Io mi ammalo, sto male, tutto quanto. Può succedere che i guardiani dell'oltre si accorgano in tempo che si sta sbilanciando il mio filo animico, il mio percorso, il mio destino, e intervengano salvandomi. Possono anche non accorgere se non mi stanno cacando, perché non sono onniscienti, come l'invenzione del Dio unico, non sono onnivedenti, quindi non vedono tutto, ma se passano di lì e si accorgono che io sto impiciata con dei casini fatti da altri umani, una zampa me la danno pure. Ecco, in quel senso può esserci un aiuto entatico, che non ha nulla a che vedere con l'aiuto divino, poiché lo chiamiate divino e un altro paio di manica, ma non è un miracolo, è semplicemente un rimettere le cose a posto, che qualche altro stronzo terreno ha incasinato. Tutto lì, la spiegazione dei miracoli è questa, dal mio personale punto di vista, ovviamente. Tornando invece un attimo indietro, sull'altra domanda che volevo aggiungere in questo video, era sulla questione che adesso non me la ricordo più. Tra la telefonata e il casino, la scemata della GIF col gatto e la condizione improntata mentalmente sui miracoli. Prima ho detto, voglio parlare anche un attimo di questa cosa e ora me la sono fumata dalla memoria. Ma, se non mi torna in mente, chiudo il video qua. Se invece mi viene in mente, faccio la postilla. So che pensavo, lo dico in questo video, perché è una cosa molto breve, a cui però volevo rispondere. E, invece, niente, la mia memoria da anziana è tornata anche stasera a farsi viva, perché io se non faccio tutto un video unico, ora questo qua lo devo pure montare in tre pezzi, se non faccio un video unico, mi perdo nei meandri del mio cervello. E mi sono scordata cosa volevo dire. e mi girano le scatole, perché mi piaceva rispondere anche a quella questione, e invece, niente, niente, non arriva, io sto cercando di tergiversare, nella speranza, che mi torni alla mente, ma mi sa che non c'è verso. poi appena chiudo, e smetto di fare il video, mi viene il flash, e dico, porca miseria, era quella la questione, e la rimando domani, ma stavolta prendo appunti. Nel frattempo, allora, visto che non me la ricordo, vi saluto, ricordandovi sempre, che qua sotto, ci sono tutti i link, dei vari social, dove io frequento, bazzi, corrispondo, chiacchiero, gioco, scherzo, faccio di tutto, e un po' più sotto, ci sono, io devo rompere qualcosa, sì, ci sono, tre o quattro, link, delle invece, mille mille librerie, che tengono in vendita, i miei libri. Sul discorso, libri, ci sarà, a breve, una novità, inaspettata, che invece, verrà fuori, ma non vi anticipo niente. Sulla novità, della parte, in abbonamento, dei miei video, spero, dovrebbero scadere, in questi giorni, i via, all'approvazione, e, il minimo, che sono riuscita, a ottenere, come, abbonamento, proprio minimo, alla parte, di canale, dove farò, gli esperimenti, pratici, sarà, 2,90, o 2,99, non mi ricordo, che era, proprio, il minimo, statale, però, sono riuscita, a fare, il prezzo, più basso, in base, alle condizioni, contrattuali, sempre che, mi parta, l'accettazione, ma di questo, man mano, vi tengo, informati, ora, in questi giorni, tra, tra domani, dopo domani, dovrei avere, la risposta, se, viene effettivamente, accettata, la questione o no, dal canale stesso, altre cose, non ho da dire, perché, appunto, l'ultimo pezzo, non me lo ricordo, non era l'ultimo pezzo, il discorso, era improntato, sui miracoli, ma, ho detto, già che, parlo di queste cose qua, rispondo, a quella domandina, di quella utente, che mi aveva fatto, e che mi sembrava interessante, anche da riportare, appunto, in versione orale, ma, nada, non c'è verso, se me la ricordo, domand, nel frattempo, ciao.